ciao ti piace un brano e vuoi imparare a suonarlo se hai un dubbio che ti assilla sulla teoria l'armonia la tecnica l'improvvisazione preparerò per te una video lezione personalizzata se hai sempre desiderato suonare un determinato brano sulla chitarra ma non hai lo spartito oppure non sai leggere la musica realizzerò per te il video tutorial del brano che hai scelto di musica classica leggera pop quello che preferisci il video tutorial verrà realizzato nota per nota e potrai rivedere ogni passaggio tutte le volte che vorrai scrivilo per cortesia nei commenti sotto il video cosa preferisci come se c'è un brano se io posso farlo ti dirò se sì o no e cercherò di accontentarti se hai una lezione sui modi sulle triade sull'armonia sull'improvvisazione qualsiasi cosa scrivilo per cortesia nei commenti commenti ti contatto privatamente oppure puoi anche lasciare la mail se preferisci puoi contattarmi alla mail indicata nella descrizione e ti ringrazio per l'attenzione ci sentiamo al prossimo video ciao ciao